Un saluto dal Tg della Mobilità. Dal lunedì 14 settembre sono in servizio le linee S, collegamenti integrativi per potenziare il servizio di superficie verso alcune stazioni della metro nelle fasce orarie ed entrate e uscita delle scuole. La S01 sarà in servizio sul percorso stazione metro B Ponte Mammolo Termini, confermata in via Tiburtina, angolo via Portonaccio e alla stazione metro B Policlinico. La S02 sarà in servizio tra la stazione metro A Anagnina Termini, confermata alla stazione metro A Colli Albani e alla stazione metro A C San Giovanni. Gli orari nelle due linee saranno 6.30, 9.30, 13.15 e 30. Durante la prossima settimana entrerà in servizio con gli stessi orari anche la linea S03 con percorso tra Battistini e Termini e la stessa traversa. E tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.